Ciao a tutti ragazzi, sono Gasso Orecchio di Tigre, siamo qui su Mass Effect Andromeda e io ho parcheggiato di là. Intanto le navette continuano ad andare e venire, il che è un bene. Più o meno, dove? Dove sei? Mi dica. Minchia, che velocità. Interessante, vai, vai, vai. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Mitni. Questo potrebbe formare le basi per produzione di armature all'initiative. Scrouge sicuramente, Pathfinder. Eh, è vero, ora, che ci pensi? Oh, guarda, 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 guarda. No, 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 stai in dietro, stiamo carando l'alluminio. Noi, guarda, guarda. Soprattutto né, guarda, guarda, guarda. Allora, guarda, 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 guarda. E' semplice, se l'energia elettrica abbia usato, noi abbiamo dei primi remnant. E' meglio essere sicuro questa volta, Jennings. Se sei così spookato, guarda dietro i quattro gianti. E' molto bello. Scusate, dobbiamo trovare loro prima di essere morti. Guarda che sono... EH CHE COGLIONI! Pure qui devo fare da batanta ai bambini. Non so come sono i bambini, ma... ...dietecting above normal radiation levels. Dai sali. Eeeh, ho sbagliato tosto un'altra volta. Amiche, è tempo! Porco il mondo. E' questa è un meccolo alluminio. Dai no abiti. Si è echato lontanissima. A ver, aspetta. Adesso mi gioco! Adesso mi gioco! Adesso! Cosa! Oh no! Oh no! Oh no! Ok, sono un amico! E' questo? Sì! Sì, sì! È che. no non posso venire premuto con quest'arma di merda parla con i superstiti parla che che parla io non riesco a controllarli quanta gente bisogna riuscire prima di stoppare il pathfinder ha un punto ok ma non puoi proteggere noi sempre il pathfinder qui abbiamo bisogno di ogni età che possiamo oh altra vivibilità allora il supporto vitale sta calando vediamo di tornare un attimo in una zona sicura qui abbiamo l'incarico delle rocce non so quanto sia sicura quella zona però almeno sul nomad rallenterà la discesa aspetta ora che ci penso magari lì sopra ci sono dei com'è che li chiamavano non geroglifici abbiamo un occhiato veramente ma non c'è niente infatti ed avvicinati alle casse dove sono? non le vedo vada lì là infotra fatto allora di là credo aspetta se è alla mia testa mazzo 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 sto perdendo vita veloce analizzalo puttana eva puttana eva non muoio perché non me lo analizza ok non posso proprio entrarci in quelle zone niente devo tornare al nexus e aspettare che diventi un po' più vivibile la zona ascenti go posso parlare con l'equipaggio oppure mi sbattete direttamente da Tanna a parlare in cucina ci svuota la dispensa mi sbattete Questo è fantastico, benvenuti. Quali pensi, Ryder? Siamo avventurati. Quali che rende il squadro cominciato, è ok con me. Chiamo parliamo di un successo su Eos. Nel caso di stabilire il nostro primo viabile outpost, abbiamo fatto alcune cose incredibili. Abbiamo scoperto i remnanti e abbiamo bruciato il loro vault. E non si è morto. Abbiamo avuto la radiazione, un po' di volte. E non si è morto. E non si è morto. Allora, 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 non bisogna andare a scoprire. Ci sono priorità di iniziative. La squadra si chiama le scopole. In realtà, il Pathfinder si chiama le scopole, per essere chiaro. Quindi, cosa hai bisogno di noi, Ryder? Beh, io direi, cercate di andare d'accordo. Questo no, un succedo è un casino. Siamo sbagliati e diamo il beneficio del dubbio. Trovare un'uomo per tenni di tenni di tenni in questo scopo, è abbastanza stressante, senza aggiungere disfunzione. Hai capito, boss. C'è un'uomo per tenni di tenni di tenni di tenni di tenni di tenni. Ok, andiamo tornando nel nexus. PB, Drax, vediamo lecce per un fisico. Buona notizia, tutti. Esco per ulteriori informazioni. Troppe informazioni! Ulteriori informazioni, troppe, 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 uno, uno, tre. Velocità di ricarica. Conferma. Uno. Uno. Tre. Attacco soppressore. È tipo nuova. Conferma. Tutto è che abbiamo qui, incarichi aggiuntivi. Parlo, ah, sì, 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 sì. Segnato tutto come già ho letto. Perché devo leggere quelle che ho completato? Che me ne frega. Ci sono pure le chiamate. Centro di ricerca. Ah, sì. Pilla. Missione squadra d'assalto, è vero, è vero, è vero. Come ne ho completamente menti. Rapporto. Fallita, vai così. Non lo so, va, vai. Stripe team, ready for deployment. So we have a stowaway. You mean PB? She's decided to set up in one of the escape pods. You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. How did you get into medicine? My mom was a dancer on Omega. Dad was a bouncer. I'd patch him up after busy nights. Discovered I had steady hands. They put every credit they earned into my education. Are they here in Helios? No. Both died in a turf war. Made leaving the Milky Way behind easier. How do you think the crew is holding up? I'm happy to share what I can without violating patient confidentiality. Anyone in particular? I sort them in their files and my brain by species. Why do you sort them that way? Just easier for me to see patterns and behavior. How do you think the human crew members are handling things? There's a lot of them. How's Korra doing? She's processing. Your father was her mentor. She expected to follow in his footsteps. But he gave the role of Pathfinder to you. Just because she trusts his judgment doesn't mean she's not confused. Or hurt. Gil? Gil likes to use humor as a defensive technique. He'd rather bury himself in the Nomads than tackle emotions head on. Suvi okay? She's remarkably adaptive. I'm kind of jealous. How's Liam? A handful. Every time I patch him up, he breaks something new. Liam's we-can't-lose attitude is commendable. But I worry how he'll react when something does go wrong. I'd like to check in on the non-human crew. Ask away. Is Peebee all right? She's avoiding me. Probably thinks I'll poke her with a needle if she gets too close. To be fair, you're always giving me shots. Not in the hallway. Tell me about Vetra. Vetra's used to having someone depend on her. I think that's why she's so resourceful and likes providing for other people. That being said, I think she could use a little me-time. How's our Solarian? He's quite the gossip. Tight-lipped about himself, though. Ma scusa, no, ha incluso la dottore. Is Drak good? That old bastard's always good. I've never met anyone who can be so stubborn and so appreciative. Could you... Look out for him, Ryder? Don't worry, Lexi. I'll keep an eye on him. Thank you. And... Maybe don't mention I asked? Thanks for the insight. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Allora, porta... Report from the Nexus. Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids. But I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. Roses in helios. So there's a heart's soft as rose petals into that uniform. I got plenty under here, pal. Does the big bad Pathfinder have a soft spot too? I might. For certain someones. Good to know. We've all got our something. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos... Well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better. Was all she said. Being a Huntress suited me fine, but she insisted. Wow. You fight side by side and then she gives you the brush off? It hurt. One big kick out of the nest. Still, that's familiar. When your biotics are honed into Huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. What part of that vision made you want to take the plunge? A civilization where everyone had a place. Even AI. Or an overpowered human biotic. Your father said, I get being different. Now imagine being welcome and making others like you welcome too. When I was 13, I could warp a steel girder. He made me wonder, what if someone had told me, that's okay? He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially somewhere like the initiative. So I gave the initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it was still Sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. It sucks, but it happened. We need your mind on the mission. Always is. But I'm human too. Need time to find a way through. And if that remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses too. Chi lo sa. Credo i cosetti. Ryder? Tutto di questo ho parlato, tranne l'Arc Asari. Come va la procura per l'Arc Asari? L'Lucinia? Checking ogni com che è venuto. Non c'è concreto ancora. Siamo dopo, Cora. Siamo qui. No, non sono piante strane, magari aliene raccolte che possono dare informazioni. Allora, mi aveva detto di andare al centro di ricerca o di sviluppo, non mi ricordo già più. Boh, ciao. Qui cosa che c'era? Ah, un bel niente. Ah, sì, ma c'era. Ah, ok, 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 ora mi ricordo. Ah, qui c'era l'infermeria. Quindi, sì, oh, giusto, andiamo di qua. C'era? Ah, niente di nuovo. Buongiorno a parlare, Gil. Qualc'è l'opera. Mica, che chiacchierata. Non c'è niente. Eccolo lì, il Nomad. Ascensore. Ascensore. Non c'è niente. C'è petra. Pibido, vai, scusa. Terraforming, Atmo processori, gravity wells, life destroying murder bubbles. We really had no idea what Helios was about, did we? If we knew what it was all about, it wouldn't be an adventure. It would just be moving. And everyone hates moving. Just the packing alone? Ugh. Point taken. I'm just saying. I really hope you have a plan, Ryder. The plan's the same. We find a home. Whatever that takes. Keep that drive. Makes me believe we can make it. I mean, we have to make it. The alternative is not even worth thinking about. Have anyone else here with you? Besides Sid? No, just me and Sid. It's always been just the two of us. No, I mean, someone special. Special? Oh. You mean like... Oh. No, nothing like that. Who has time? What about you? Like you said, who has time? Eventually things will settle down a bit. Hopefully. Or we'll be dead. Um, anyway. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Vio. Ho penetrato nelle casse, ma vabbè. Ok, sarò anche il pioniere, ma se lavoro male va sostituito Ah, mancano pipi, dracca, oh, il Paijack, il Paijack Oh, che schifo Perché dobbiamo rimanere? Ieri ho trovato una tazza vicino al laboratorio biologico, è carina Anche la base magnetica era accanto a una paratia È mia, l'ho posata un attimo perché avevo entrambe le mani occupate Prossima volta prima svuotala, che ne dici? Ah, qui ci sono i bagni Qui c'è la cucina La heripote di... Nooo I like the no trouble plan, how about we stick with that? Ha, Cash said not too much trouble, kid, not no trouble You can't make sure some trouble's always coming for you That's not reassuring Life out here ain't reassuring, you'll get used to it Is that all you brought? You travel, Dean, when supplies are tight and you're on your own Your people had to know what it'd be like when you left the Nexus We did, but there weren't a lot of options After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony Easy choice, bad consequences all around Not all Krogan left, your granddaughter stayed Good thing she did, without my Rushan you wouldn't have had much of a station to tie your ship to As for me, I'm way more useful out here, lots to shoot at for one Krogan could have made a real difference on the Nexus Staying under those conditions would have just resulted in another mutiny We have a much better shot at something good out here Can't argue with that Qua c'è i cucini di buono Writer, you meet Spender yet? Colonial Affairs, the ass in Assistant Director Got no idea why Addison keeps him around Spender lied to the Krogan during the uprising and he's headed out for cash ever since He's up to something, I just can't prove it, we should pay him a visit on the Nexus Got any stories or advice to share? Does a Pijack scratch its butt? No, what a Japanese-style Oh my god Anything about the Ket, or combat in general? Well, Kcom and Ket are pretty straightforward, hit them hard enough, they die like anything else Tell me more about fighting Ket Wraiths are sneaky little shits Like to ghost up behind you When you least expect it Just listen for them They tend to give themselves away Right before coming at you Break through their headplates Then a headshot should do the trick What's it like to have Keshe as a granddaughter? Keshe is my Rushan Child of my blood Raised her myself Damn proud of her too She did good Even with me for a granddad I'm still getting to know her There's no Krogan like my Rushan She's worth knowing Did Lexi brief you on Sam and Squad connectivity yet? Yeah You want to hook that thing up to my comms? Sure, but that's where it stops Putting an AI in your head Giving it access to everything like that It's begging for trouble Why do you say that? I've seen what bots can do when they turn on their creators Been in some of those fights There's a reason that kind of research was outlawed Yeah I was dismissed from the Alliance when news of what my dad was researching got out No shit Ruined the writer name, I'll bet Almost Sam is part of what makes someone a Pathfinder You're just gonna have to deal with that So long as it's not in my head and it ain't messing with my body I'd like to know more about you Fire away So about all this combat experience you have I'd love some details Ha! The list will be shorter if you ask me what experience I don't have I've been doing this for a long time now Centuries, shit Well over a thousand years Don't even know how I'm still alive, to be honest Skill? You need luck to be a mark Skill, sure, but a whole lot of luck And a really hard head How did you and Vetra meet you? Oh, that's right Your father brought you into the project pretty late, didn't he? Must have been a pretty steep learning curve since they thought you out You could say that You make do with what you get Anyway, I met Vetra back when we were building the Nexus She swiped supplies I was trying to get for Keshe Right under my nose I tried to intimidate her into turning them over to me And let me tell you That Turian takes shit from no one I have no problems believing that Yeah, she told me off good But here's the best part She waited until I saw her again in Keshe's office no less To tell me she'd been working for Keshe all along They're both still laughing at me over that Tell me more about the Krogan colony My clan's there We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up Got a decent setup going Self-sustainable, the works Even some farming Farming? Krogan farm? Food is food Just because we can eat anything doesn't mean we got to settle for scraps I'm pretty fond of Krogan roots myself Takes a while to chew through those Ma scusa Perché Non avete risanato il vostro pianeta? Punto di domanda Vabbè Why did the Krogan leave the Nexus? The Nexus got us Krogan to stop the mutiny In return we were supposed to get a say in station business Spender, Addison's assistant, lied about the deal And Tan came down hard Too hard So we left Keshe is alone on that station now You think someone might try to hurt Keshe? Ha More like she airlocks Spender Or he tries to stab her in the back And then she airlocks him Tan wouldn't listen to me when I told him Spender had a part in the mutiny I had no proof So what's my part in this? Things need to get sorted out And my clan needs to get back on station Without Spender messing things up Where I see it You're probably the best one for that job We can talk more later Sure Hey, one last thing Yeah Is everyone a kid to you? Ha When you get to be my age Yeah, pretty much Trova Spender sul Nexus Ah minchia Pure vicino a distanza Ho fatto troppo casino la notte Voglio dormire Dottoressa Aridana Salve Raider Perdonare l'intrusione Ma ho un problema Che tu e Sam Dovresti poter risolvere Facilmente Per essere mi utile Per le mie indagini sul flagello Non mi scudere in persona Nel laboratorio del Nexus Ok Archive Si è tutto un oggetto Tanto D'accordo Ho letto tutti i rapporti Sulla cripta Alla relictum Sembra roba ultra pericolosa Ma tu hai avuto La solita fortuna I miei manuali Di cacciatrici Direbbero La fortuna Un equilibrio Fra te Il nemico Ma i relictum Sono nostri nemici Come i cat Oppure Stanno solo difendendo Ciò che è loro Secondo me È la seconda Perché Se stai distante Non ti attaccano Ho avvertito Bradley E gli altri Su Prodomos Non per spaventarli Ma solo perché Sappiano In che cosa Potrebbero imbattersi Durante gli scavi Se i calcoli di Sam Sono corretti Quella cripta Potrebbe scendere Addirittura Sotto la placca continentale Cioè Si avvicina al nucleo Eh Bella domanda Come fanno Scavare Come hanno fatto A fare un buco di profondo Ciao Raider Sono felice Di informarti Che la tempesta In perfetta E condizioni Allora Visto che adesso Comandi tuo Pensate a rivelarti Qualche piccolo segreto Che il progettista E io abbiamo inserito Nel codice della nave Per esempio Invia il codice JCSB Con il tuo factotum Per aprire il menu Di debug Puoi usare La macchinetta Del caffè Della cambusa Tutte le volte che vuoi Viene dopo Elimina il blocco Dell'acqua calda Nelle docce Non ho niente da leggere Mette i tuoi abiti Davanti a quelli degli altri Nel ciclo di pulizia automatica Ah Ah Non farli girare Puoi usare la macchinetta Il caffè Della cambusa Tutte volte che vuoi Ah Wow Forse Dove le si Vabbè Rider Da Drac Vetra mi ha Detto Cos'è successo A tuo padre Io ho perso Molte persone In corso degli anni Giù ho pensato Che distrarti un po' Potrebbe farti bene Guarda Di solito Questa cosa Mi aiuta 37 immagini Di diversi fucili Due sono doppie Molte sono a bassa risoluzione O segnate con delle filigrane Che cazzo me ne frega Posizioni di yoga Aaaaaah Considerare gli sforzi fisici Che cambiano nei quotidiani Consigliati 5-10 minuti al giorno Se risulti Per sciogliere i fianchi E rilassare la parte bassa Della schiena Le posizioni portate qui sotto Sono le migliori In questo senso Non vorrei sembrare Presuntuoso Ma se è vero Che lo yoga Di menzioni degli umani Sono state le asare Perfezionarlo Inchino di Curint Un piede a gambe divaricate Con un piede girato Verso l'esterno Inspira profondamente Ispirando piega il busto Verso il piede Rivolto all'esterno Fino a toccare la caviglia Con la mano Mantieni per 5 secondi Poi cambia lato Abbraccio di Tevura In posizione di supina Unisci i piedi Formando un rombo Di spazio Negativo Tra lì Unisci i piedi Formando un rombo Di spazio Che è? Non mi pare Non mi volta La terra Spingi i fianchi In avanti Ma senza allungarti Troppo Posiziona la matriarca In ginocchio Inspira profondamente Inspira Unisci le mani Formando la matriarca La seconda Inspirazione Sono lì Vole braccio Soprattutto le testa In avanti Portando il busto Raleigh Mantieni per 3 Per 3 Respiri Allungandoti Sempre in pieno Ogni ispirazione Vediamo se ti siamo Scriviti o viti In riferimento Ho capito Quasi un caso Ok nulla di nuova Com'è che si zoomava Che è sta roba Musica Musica No Ho ancora trovato Pibi Ah aspetta Forse ho capito Dov'è Si è spostato Si sono spostati Si però non penso Mi ricordo niente Di nuovo Non ho fatto niente Se si spostano Ogni 2 per 3 Però è un po' Un problema Eh Ma è che Pibi Essendo nuova Forse Ci sarà la scenetta E quindi Ancora là Per ora Devo salire per le scale Effettivamente Sono un ponco Ilione E qui Che Posso te considerare una edizione temporale? Tutto è temporale, Ryder. Entrano. Vuoi sapere chi è sul tuo spettacolo, quindi sei qui per capire cosa mi fa cliccare, certo? C'è qualcosa di così? Certo. Sì, ero nato in un luogo in un luogo in Ritiana, per semplici ma amici, solo cercando di... ... 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 Why snooze through my life's story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Tackling complete strangers in the Milky Way wasn't doing it for you? I think tackling you anywhere would be fun. Did I say that out loud? Life won't be boring with you around. I may never yawn again. Maybe you just needed more sleep. Siamo arrivati per 600 anni, una persona speciale ha fatto il viaggio con me, e lei ha scoperto una persona altra persona. Mi sono dormito. Ryder, la Milky Way è stato così... stato lì, fatto lì, fatto lì. Anche se non ho fatto lì, qualcuno ha. Se c'è una cosa che dovete sapere di me, è che vivi per il nonno, per il che non è mai stato fatto. Beh, grazie a te, nessuno ha mai avuto così successivamente avuto i miei tentativi di riconoscere loro. Sì, sono il numero uno! Buongiorno a me un minuto, chi ne sape cosa che si tratta di me. E poi, ho bisogno di remnante, chiamato il remtec, per progetti come quello che ho parlato, che ti aspetterà, per l'altro. Prometi a me portare quello che hai scoperto, e io mi mando a tutte le vostre domande. Remtec, eh? Hai capito. Grazie a tutti. Mi lasci parlare. Grazie a tutti. 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 Ci vediamo nel prossimo episodio, spero che questo vi sia piaciuto. Ciao ragazzi.